Festa grande al centro servizi anziani Mantegna di Campodarsego dove ha spento le sue prime 102 candeline la signora Gloria Cavinato con lei a festeggiare il figlio e le due nipoti con il vice sindaco di Campodarsego Mario Pistore, Cristina Mason, assessore di Vigo d'Arzere e Don Enrico Piccolo, parroco di Campodarsego. Nata a San Giorgio delle Pertiche nel settembre del 1921, Gloria ha poi sempre vissuto a Vigo d'Arzere dopo le nozze con l'amato compagno Riccardo e la nascita del figlio Adriano. A bellissima sarta, Gloria ha confezionato con cura e passione abiti per ogni evento e ricorrenza della sua vita. Forte, determinata, paziente e altruista, così la descrivono. A lei inviamo anche i nostri auguri. Buoni 102 anni, carissima signora Gloria. Grazie a tutti.